Ecco le entrate in campo delle due compagini, Ortona a calcio con la maglia giallo-verde e la Virtus Castel Trentano con la tradizionale maglia giallo-rossa. L'arbitro della sezione Aia di Chieti, sono le ore 18, c'è la scelta del campo e del pallone, i nostri ragazzi sono carichi, è la prima di campionato. Ci salutano i ragazzi, vanno a salutare le panchine avversarie. Se volete fare una foto in blocco, schedatevi una foto, ma ve lo faccio a volo. Quella ufficiale ve lo faccio domenica con la maglia nuova, a bozzi. Tanto l'arbre sta ancora sotto. Ok, va bene, allora domenica. Ecco la nostra panchina, guarda lì c'è Johnny, c'è il mister Gabriele. Ok, in bocca al lupo ragazzi, crepi il lupo. Ok, vai bene.